Il mio nome è Giovanni Foronari e io sono presidente dell'azienda omonima che si chiama Ambroge Giovanni Foronari Tenute. Io mi ricordo ancora quando il mio nonno e mio padre acquistarono l'azienda da questi loro amici conoscenti, questa famiglia di banchieri, Mattioli, nel 1971. Io all'epoca avevo sei anni e mezzo e mi ricordo che loro due mi portarono per la prima volta a Nozzole e ho ancora questo flash di quando arrivai alla cantina e soprattutto in cima al colle, che è a Passo dei Pecorai, dove c'era questa villa che mi sembrava enorme. Adesso mi sembra un po' più piccola forse perché sono cresciuto io. Quando io vedo le mie bottiglie, qualche mia bottiglia su un tavolo di persone sconosciute magari quando sono a un ristorante, sono subito curioso e quindi cercando di non farmi notare, a volte purtroppo non è così perché mi notano, è vedere l'espressione che fanno le persone quando assaggiano il vino e soprattutto quanto ci mettono a fine la bottiglia, perché se la bottiglia finisce velocemente vuol dire che il vino è piaciuto poi, il massimo della soddisfazione quando poi finiscono la bottiglia ne ordinano un'altra. Questo a volte succede, per fortuna.